E dall'esterno dello stadio Maradona, pre-partita di Napoli-Milani di Champions, però qui i tifosi si proiettano già a quello che accadrà a fine aprile-inizio maggio. Siamo con Giuseppe, giusto? Sì. Che ha la maglia del Napoli con già lo scudetto sul petto. È la prima volta che la vediamo in questa veste ufficiale, diciamo, e tra l'altro dietro c'è anche scritto ricomincio da tre, quindi un bellissimo omaggio anche a Massimo Troisi. Giuseppe, ha basso la scaramanzia e quindi hai voluto già subito mettere addosso questa maglia con lo scudetto? Quest'anno non ce n'è per nessuno. E quindi già sei pronto a festeggiare? Sicurissimo. E per stasera invece quale è il tuo presentimento? 3 a 1. 3 a 1? 3 a 1. Perfetto. E l'ultima, tu sei di Napoli? Sono di Napoli. Ok, quindi non avrei bisogno di venire qui per festeggiare? No, no, già tutto prenotato per il 3 giugno, non il 4, il 3. Per Napoli-Sandore, ultima partita e festa a scudetto. Esattamente. Grazie mille al nostro amico Giuseppe e sempre Forza Napoli. Grazie. Ciao, grazie a te.